No, vabbè! No, vabbè! No, vabbè! OI CHEGAYA! I don't want to live on this planet anymore! Che piacere! GG! No, è possibile! Figlia di troia! Dai, se avessi avuto gli incendini! Era tutto diverso! Potevo giocarla bene! Potevo giocarla bene! Cristo santo! Non c'è la mia scheda! CHEA! CHE CA! TROIA! Figlio di puttana! Potevo giocarla bene! Pezzi di merda! Questa è una bella rapiatura! Andiamo avanti! Ne facciamo un'altra? Sì, sì! Fantastico! Dimmi! Mi chiedo di rinforzare! Sì, sì! Mi chiedo di rinforzare! Ok! Non c'è problema! Accello, ok? Sì, sì, sì! Accello! Ok! Sì, sì, sì! Sì, sì! Sì, sì! Mi sta salendo un porco che veramente... Perché non ha sparato il pompa? Perché non ha sparato il pompa? Ma io che cazzo ne so scu... No, io non ce la faccio! Andiamo? Adesso vai a piangere... Dalla mamma! Povero! Ha succato con la pistola! Mannaggia! Mannaggia! Come mi dispiace! Sei proprio forte! Bravo! Sei proprio forte! Io sono fortissimo! Ha 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 ha... Ha 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 ha... Ha 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 ha... Cado per filla al medico in mediano... Noooo! L'ho visto 15 minuti fa! L'ho visto! il ragazzo qua è una gente è una cosa poliziotta a terra ma come fa a terra cavolo libero anche l'ascensore 10 quattro 10 quattro liberi te li faccio in sicurezza se li troviamo perfetto eccomi commissario oh mio dio che dolore mi scusi agente mi scusi collega posso dire da ridere per caso assolutamente no commissario è esploso qualcosa all'esterno è il solito container del cazzo che non lo svuotano quindi signorina per me per quanto mi riguarda io accetto la sua proposta sì anche per me adesso la faccio il contratto per criminologa e per psicologa da quest'ora ok lei ovviamente farà parte del corpo della polizia quindi io penso che se lei voglia e ce ne sarà modo e bisogno lei almeno per mio parere se vuole essere affiancata sul campo adesso non è agente quindi manca di no però in centrale lei magari avrà accesso anche gli uffici per tante cose vi stavo dicendo anche in base anche diciamo ai crimini che avvengono io magari avrei bisogno di eccedere eppure non era così grande l'ultima volta chissà dov'è il commissario chissà dov'è il commissario eccolo quanto comunque noi siamo sempre presenti uno dei capitassi solo con gli altri in grado o delle regole di cui ci possiamo fidare eh vabbè ci sono io sono ok allora ecco rivedo ragazzi cazzo di live però dai raga però non è possibile ma perché io non ce l'ho non si può però fare così a rapì raga ma perché e anche oggi ci si cambia oggi perché che è che è